Pareti di vetro per il nuovo Infopoint che nascerà al Beroletto di Como, lo spazio individuato per far sorgere il nuovo ufficio per le informazioni turistiche e quello dove attualmente si trovano ascensore e scale, anch'essi al centro di un lavoro di restyling che portano al Salone Superiore. E' stato presentato questa mattina il progetto preliminare realizzato dall'architetto Darko Pandakovic, selezionato tra i sei professionisti esperti di contesti storici chiamati dal Comune attraverso una procedura negoziata in vito a proporre una soluzione progettuale per il nuovo Infopoint. Circa 450 mila euro l'importo complessivo dei lavori. Di questi 315 mila euro rientrano in un finanziamento regionale sui distretti dell'attrattività turistica e commerciale della città e il resto viene finanziato con fondi della tassa di soggiorno. Il nostro tentativo è quello di riuscire a realizzarlo in tempo per l'Expo. In attesa del progetto definitivo che dovrebbe arrivare dopo l'Epifania arrivano i primi dettagli. L'ufficio, che sostituirà quello attualmente in via Maestro Icomacini, avrà pareti di vetro per lasciare intatta la visuale e per non appesantire l'edificio. Aggiungiamo cose nuove il meno possibile. Aggiungiamole nelle tecnologie che devono essere avanzatissime. Aggiungiamole in tutto l'aspetto della comunicazione audiovisiva che deve essere scattante, nuova, assolutamente contemporanea e continuamente rinnovata. Ma per ciò che sono le strutture storiche e il patrimonio architettonico e artistico si tratta di valorizzarlo di più e non di confonderlo con nuovi elementi. Sotto il portico troverà spazio una passerella e poi verranno posizionati schermi per veicolare informazioni turistiche. Nel suo complesso tutto il portico del broletto diventerà un luogo dove verranno dati messaggi e annunci sul turismo, sulle potenzialità degli itinerari turistici comaschi, ma soprattutto, anche per la cittadinanza stessa, tutto ciò che sta avvenendo in città. Il tutto dovrebbe diventare luminoso e gradevole. Gli schermi che si ritraggono e che scendono nelle ore della proiezione, tutto con una certa smagliantezza scintillante che dovrebbe rendere più vivace appunto quello spazio che oggi è un po' triste del sottoportico del broletto.